In questo video vi spiegherò come aggiungere un componente jaded pane al frame, ma in modo che sia in grado di ridimensionarsi automaticamente insieme alla finestra. Altrimenti con il layout manager flow layout attivo dall'altra volta potrebbe sfuggire su un'altra riga. E poi non rimanere centrato e occupare tutta l'area inferiore della finestra come potrebbe essere il nostro desiderio. Il jaded pane è comodo perché su ogni scheda potremo aggiungere un gruppo diverso di componenti. Per vostra comodità metterò anche nella descrizione del video un link con il quale scaricare l'intero progetto. Buona visione! Ho scelto come contenitore per gli altri componenti il jaded pane perché nello stesso spazio video, cambiando linguetta, ci consente di mostrare diversi contenuti. Quindi è abbastanza pratico finché non ci si vuole cimentare nell'apertura di n ulteriori finestre a video. Eccolo qui! Un clic, poi mi sposto dopo il bottone di login e lo inserisco nel flow layout. Per il momento questo piccolo quadratino. Ormai sapete che possiamo andare ad agire sul preferred size per dare una dimensione diversa in partenza. Mettiamo, non so, 130, no, un po' di più, 300 e 150. Questo di per sé è già un buon primo passo, però non ci soddisfa ancora. Perché? Perché legare la dimensione di un componente a dei valori fissi, secchi, non è mai una soluzione ottimale. Quando la finestra venisse poi ridimensionata, non cambierebbe in automatico poi la dimensione di quel componente, ad esempio. È vero che potrei per approssimazioni successive dire, beh, con 300 si arriva qua. Proviamo a mettere 500, 550, un po' troppo, torno indietro, 520. Ah, benissimo! Adesso questo contenitore è più o meno centrato. Va bene, va bene però finché l'utente non ridimensiona la finestra. Mi piacerebbe invece che, allargandosi la finestra, si allargasse anche il componente, ad esempio. Ma la dimensione l'ho messa fissa. Andiamo a rimediare. Entriamo nel codice, source, dove appunto il tabbed pane viene creato e aggiunto come componente al content pane del frame. Quindi, queste sono le dimensioni che abbiamo inserito interattivamente. Se il 150 ci può anche star bene, questo 520 invece dobbiamo legarlo semplicemente alla larghezza del frame. Intanto vi ricordo che ho già avuto modo di discutere nei video precedenti di come, usando la classe dimension, si può dare un nuovo valore di larghezza e altezza ad un componente, usando il metodo setpreferredsize. chiedo tramite il metodo getWidth del frame, qual è la sua attuale larghezza, e dico meno un certo valore che tiene conto dei margini, non so, meno 50. Cosa abbiamo ottenuto? Torniamo in design. Proviamo ad allargare la finestra. Hop! Il componente tabbed pane ha adattato la sua dimensione. Tutto bene? No, nel senso che si adatta a modifiche fatte qua, staticamente nel designer, in ambiente visuale di sviluppo, ma a runtime, in partenza le cose vanno bene, e di nuovo, se cambio dimensione la finestra, devo comandare il ridimensionamento quando la finestra cambia dimensione, e cambia almeno larghezza. Dobbiamo quindi andare a programmare quell'evento che intercetta questa situazione per il frame. Spostate allora la vostra attenzione qua, sul pannello delle proprietà, e attivate gli eventi. Espandete la categoria component e troverete Reside l'evento che scatta quando viene cambiata la dimensione del componente frame, in questo caso. Fateci un bel doppio clic in questa zona sulla destra per attivare l'editor. Come al solito l'editor ha inserito per voi l'adapter e il metodo che andiamo a programmare. E' sufficiente andare a ripescare sotto dove abbiamo cambiato il Preferred Size del tab di pane questo codice e fare un copia e incolla. Qui. Forse a qualcuno darà a questo punto il dubbio ma vuol dire allora che adesso possiamo andare a togliere quelle tab di pane e set prefered size che abbiamo messo qui inizialmente? No. Perché questo vorrebbe dire che in partenza il tab di pane avrebbe questa dimensione minuscola qui e soltanto ridimensionando la finestra una prima volta assumerebbe le sue corrette dimensioni. Tutto bene allora adesso? Sì. Però lasciatemi fare una considerazione. Il modo in cui abbiamo risolto il problema non è da esperto Java. L'esperto Java avrebbe trovato il layout manager più adatto da far agire in questa zona della finestra del frame e avrebbe fatto fare tutto il lavoro a lui. il modo in cui abbiamo chirurgicamente modificato il codice tradisce una origine come sviluppatore che non è nativo Java o non abbastanza esperto come sono io non l'ho mai nascosto. Quindi per il momento ok quando saremo diventati più esperti con i vari tipi di layout manager magari potremmo riconsiderare la cosa. In ogni caso ciò che abbiamo fatto è interessante di per sé. Come si usa il JTAB pane? Per chi viene da mondi come il punto net la tentazione è quella di cercare subito un comando col pulsante destro o un punto attivo con cui srotolare un elenco di opzioni un menu nelle proprietà a cercare un add tab add page. Windows Builder aggiunge le schede man mano che noi si vada ad aggiungere i componenti su questo JTAB pane su questo scheletro di JTAB pane. Se volessimo ad esempio sperimentare sul primo tab pane con i checkbox e il radio button serve poi di nuovo sbagliato prendere dai componenti facciamolo con un checkbox e poi andare a piazzare all'interno così direttamente il JTAB pane. È vero che viene creato un nuovo tab New tab è vero che se poi vado a prendere invece una combo box decidendo però di metterla su un secondo tab è sufficiente poi spostarsi andare in questa zona fare click ed ecco che automaticamente è aggiunto un nuovo tab però noterete che ci sfugge un po' il controllo sul layout manager del singolo tab qua la combo box sta occupando tutta la superficie del tab e qui di nuovo un allineamento automatico che potrebbe non essere quello che si vuole e se si va a cercare qua nella proprietà per un layout manager come proprietà collegata ai singoli tab io proprio non l'ho trovato magari non ho fatto il click sulla parte giusta del componente ma dubito e quindi la soluzione passa come sempre abbiamo visto tra metterci un contenitore su quale poi possiamo controllare il layout manager si arriva al solito jpanel jpanel che andremo ad aggiungere su ogni tab separato un jpanel per ogni tab che vorremo con ctrl z ho annullato le operazioni precedenti e adesso ripeto il tutto ma prendendo appunto un jpanel piazzo il primo piazzo il secondo adesso si che andando a scegliere il jpanel troveremo anche il suo layout manager che potremo cambiare a piacimento ma teniamoci per il momento il suo flow layout di default proviamo ad aggiungere sul primo tab un paio di checkbox e poi spostiamoci sull'altro tab e mettiamo una combo box anzi un paio bene facciamo partire perfetto chiudo qui il video la prossima volta potremmo magari intanto passare ad un diverso layout manager internamente per ogni tab in modo da sfruttare magari una griglia più ordinata e cominceremo a programmare anche il comportamento dei componenti che via via ci aggiungeremo alla prossima